Il mio nome è Ciccarci, per quanto riguarda la propria pubblicità… Per il mio lavoro, ha tutti malattie. nghessi 백unella felice una bella ragazza! Mi ha chiamato la ragazza… convinto, era una ragazza… E ha detto, so « consulta mi dàmi io… ho detto che stai pensando… questa cosa è tu me se llam Melissa che ci ha… «Bei dici cosa posso aiutarti?» infatti c'è che io sono un insegurcio, ovviamente noi ce ne chiamo altri papi. Sono rimasto distrucco perché ho cercato molte notizie sul web e non l'ho trovato nulla, sennò proprio cose disparate, assolutamente. E ho pensato, dicono a te, dimmi cosa posso dirti. Dicevo, vorrei guardarti. Ho finito un uomo e ho detto, ok, vieni a guardare perché lei va a disposizione di questa situazione, quindi cambiamo domani. Lei ha qualcos'altro? Va bene. Ho detto, no, invece vedevo lavorare. Ah, ne state accogliendo. Ho detto, con te che ne sopiro. Mi ha dato dei risulti, mi ha fatto capire per ammolire a scuola, non l'ho capito da alcune cose che mi ha accennato e ci siamo ben visti per rimanere subito. Io l'ho cercata, l'ho comissata, ci siamo voluti chiamare di nuovo, l'ho trovato, l'ho visto qui nel 94, dopo di più grandi, mi ha aspettato una persona un po' più diversa nel mio immaginario. Sono praticamente svenuto, perché ho visto una ragazza veramente bella. Vorrei fargli i complimenti per servire la ragazza di voi. Io devo ringraziare veramente di cuore a voi, che mi avete dato la possibilità veramente di queste tre serate meravigliose. Sto rivivendo il mio passato, veramente. Sono emozionatissima e veramente grazie di cuore. E faccio un po' per rubo alle ragazze. Grazie. Grazie. Sto facendo un po' per rubo alle ragazze. Grazie a tutti. Grazie a tutti.